Apriamo la pagina del comprensorio parlando dei controlli che continuano nell'ambito della filiera della pesca a tutela dei consumatori e dell'habitat marino da parte del personale della direzione marittima del Lazio. Di particolare rilievo è sicuramente l'attività posta in essere nella serata di ieri dagli uomini della Capitaneria di Porto di Civitavecchia che hanno effettuato un sequestro di 1500 ricci di mare nella zona di Santa Marinella lungo mare Marconi, meta più volte scelta dai pescatori di frodo della zona laziale e non solo. L'operazione è stata portata a termine dal nucleo della Polizia Marittima della Capitaneria a seguito di un'attività di indagine effettuata nei giorni precedenti all'attività di accertamento dell'illecito. Il contravventore di origini pugliesi è stato punito a norma di legge con una sanzione amministrativa di 4.000 euro oltre al sequestro degli attrezzi utilizzati, una bombola con erogatore, maschera, pinne, una torcia ed un retino per la pesca dei 1500 ricci gettati in mare in quanto ancora in vita. Anche in questo caso la tecnica utilizzata da tali pescatori di frodo è stata quella ormai nota al personale di Civitavecchia che prevede la presenza di una persona, cosiddetto palo, che ha il compito di controllare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine mentre il pescatore raccoglie indisturbato gli echinodermi con attrezzature non consentite. Gli uomini appostati in abiti borghesi hanno quindi atteso che il sub finisse la battuta di pesca per poi sorprenderlo mentre caricava le ceste contenenti ricci raccolti all'interno della propria autovettura. Tale operazione ha permesso pertanto di tutelare in modo preventivo i consumatori destinati di detti ricci che qualora non sequestrati sarebbero stati trasportati in modo difforme dalle vigenti normative igienico-sanitarie nonché di contrastare il dilagante fenomeno della pesca indiscriminata degli echinodermi che costituisce una nota minaccia al delicato ecosistema marino del nostro mare. L'onorevole Marietta Tidei ha scritto al direttore delle comunicazioni esterne di poste italiane facendo presente una questione che riguarda la città di Ladispoli, nello specifico gli abitanti della località Cerreto. Molti abitanti della città litorale negli anni hanno infatti popolato quella frazione che col tempo ha raggiunto la considerevole grandezza di circa 11.000 unità, una grandezza pari a quasi un comune a sé stante. Cerreto si legge nella lettera «Oggi soffre dei disagi dal punto di vista dei servizi, primo tra tutti l'assenza di un ufficio postale che costringe i cittadini a doversi spostare per fruire dei servizi essenziali che normalmente espletano tali uffici». L'esponente democratica ha fatto presente a poste italiane come siano state già intraprese alcune azioni per sensibilizzare alla risoluzione di tale disservizio. Il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità una mozione con cui si chiede l'apertura dell'ufficio postale. Inoltre, recentemente il Codacons locale ha avviato una raccolta di firme con lo stesso oggetto della mozione 19 che ha già superato le 2.500 adesioni. Nella lettera Marietta Tidei ha dunque chiesto, tenendo presente quanto finora fatto dagli abitanti di Ladispoli, che si prendano in considerazione azioni in sinergia con l'amministrazione comunale proprio per favorire l'apertura di un ufficio postale nella località Cerreto. Venerdì, presso la sala capitolare del Senato della Repubblica, la USL di Viterbo e l'Istituto di istruzione superiore Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, riceveranno il prestigioso premio CIP 2013 per la prevenzione. Il riconoscimento è un attestato di merito rispetto ai corsi di formazione che USL e Istituto Cardarelli organizzano da circa 14 anni, con un impegno importante sul fronte della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. L'iniziativa formativa dal 2009 si è anche arricchita attraverso il rilascio degli attestati del modulo A del testo unico sulla sicurezza, secondo quanto prevede la legge 81 del 2008, dando ai ragazzi uno strumento utile da poter utilizzare nel mondo del lavoro. Il modulo A, infatti, insieme al diploma di maturità, è il titolo necessario per poter svolgere le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, figura che per legge deve essere presente in ogni azienda. Il premio sarà consegnato alla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, CIP. L'associazione è nata nel 1990 per volontà di alcune tra le più rappresentative associazioni professionali e scientifiche che operano nei settori della medicina del lavoro, dell'igiene industriale, della prevenzione ambientale, della sicurezza del prodotto e dell'ergonomia. La manifestazione, che ha l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, del Senato e della Camera dei Deputati, dunque, rappresenta un importante riconoscimento per l'attività extracurricolare che il Cardarelli svolge con il prezioso sostegno del servizio prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ausl. Corsi formativi che negli anni hanno permesso di istruire con varie competenze 337 studenti. Sono veramente felice, dichiara Franco Capoccia, il docente referente del progetto di formazione, che l'importanza delle attività che svolgiamo in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro sia riconosciuta a un così alto livello. Fine settimana ricchissimo di appuntamenti per Tarquini a porte aperte, un museo nella città. La Biblioteca Comunale Vincenzo Cardarelli ospiterà il 25 ottobre dalle ore 17 l'incontro il Movimento Studentesco nel 68, nel 45esimo anniversario. E il 26 ottobre alle ore 17.30 la presentazione dell'opera prima del giudice civile Giampiero Barrasso, La stanza del silenzio e altri racconti. Il 27 ottobre alle ore 9.30, partenza dalla barriera San Giusto con mezzo proprio, si terrà la visita agli scavi della città alto medievale di Leopoli-Cencelle, a cura del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università La Sapienza. Nel pomeriggio alle ore 18.30 nella sala consigliare del Palazzo Comunale si svolgerà il concerto omaggio a Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita, con il soprano Kim So-Yengong e il baritono Vincenzo Serra, ingresso libero. Partito il countdown a Ladispoli per la prima edizione della manifestazione festa della birra e della castagna, promossa dall'assessorato al commercio, in collaborazione con l'associazione Il Sorcetto e con il patrocinio del comune di Ladispoli. Nei giorni 25, 26 e 27 ottobre, i Sapori della Terra incontrano la birra artigianale nei giardini comunali della città. Un nuovo evento enogastronomico all'insegna del buon umore e dell'accoglienza, che dopo il successo delle manifestazioni estive appena concluse, arricchisce ulteriormente l'offerta turistica della città. L'intenso programma propone una tre giorni non stop di degustazioni con quintali di castagna e tantissima birra artigianale, spettacoli, musica dal vivo, con la partecipazione di ospiti ed artisti a sorpresa, oltre ad attrazioni e intrattenimenti vari, stand di ogni tipo e DJ set ogni sera. Ed ora vi lascio un altro piccolo spazio pubblicitario, tra poco con lo sport.